Ci sono temi che purtroppo non finiranno mai di interessarci e di occuparci come è giusto che sia. Uno di questi temi è purtroppo ancora la lotta alla mafia, fenomeno che non accenna a diminuire nel nostro paese e in modo particolare nella nostra provincia. E allora abbiamo ritenuto utile affrontare questo tema attraverso due libri, a mio modo di vedere molto importanti, non tanto e non solo perché uno l'ha scritto il sottoscritto Cani senza padrone e l'altro i ragazzi di Regalpetra lo ha scritto Gaetano Savatteri, entrambi per Zolfo Editore, ma perché il contenuto di questi libri è il frutto di un'inchiesta, un'indagine che abbiamo fatto durata molti anni per capire il fenomeno agrigentino della mafia al di là delle sentenze. Nel mio libro per esempio Cani senza padrone si affronta l'omicidio del giudice Rosario Livatino e si cerca di interpretare quello che dicono le sentenze, quello che è accaduto dopo. Io non mi sono affidato soldi esclusivamente alle carte, io sono andato a incontrare i protagonisti di questa nostra sciagurata pagina dolorosa e parlando con i protagonisti ho potuto apprendere cose che magari non sono entrate nei processi, parlare con un collaboratore di giustizia, ma parlare anche con uno degli autori di quel orrendo omicidio come Gaetano Puzzangaro, che oggi sono uomini nuovi, uomini cambiati, diversi, la galera li ha trasformati attraverso un lungo percorso di resipiscenza e questo ci aiuta attraverso il percorso di questi libri anche ad affrontare questi argomenti scevri da pregiudizi, il cui condizionamento spesso ci porta a dire buttiamo la chiave a mare. Ecco, e anche in chiave antropologica e introspettiva questi libri analizzano anche questi fenomeni e i loro protagonisti. Dalla tua esperienza nell'arco di questi decenni, che cosa è cambiato? Guarda, è cambiato molto dalla mia esperienza, innanzitutto è cambiato perché non si spara per fortuna e non si ammazza più. E questa è la cosa fondamentale. Ma questo cosa significa? Che è finito tutto? No! Significa che è stato trovato un nuovo equilibrio. Guardate, io mi sono portato, stampato la nuova relazione semestrale della DIA, la relazione antimafia, in cui parla proprio della provincia agrigente. Sapete cosa dice? Dice esattamente quello che vi sto dicendo io, cioè che se è stato trovato un equilibrio tra Cosa Nostra e quelle piccole frange di stirgia che ancora resistono, non si pestano più i piedi, non si pestano più i piedi e fanno affari in qualche modo vicendevolmente aiutandosi. Motivo per cui non c'è più motivo di fare la guerra, scusate il bisticcio, e soprattutto perché non esiste più la lastragista dei Corleonesi, che è stata annientata o per morte oppure perché sono sepolti in galera i loro principali protagonisti. La storia della mafia degli anni 80 e 90, una mafia che ha lasciato lutti, devastazioni, famiglie distrutte, che ha distrutto anche intere comunità. Se pensiamo che in conseguenza di quelle stragi, di quei morti, di quella presenza della mafia, a Racalmuto c'è stato uno scioglimento del Consiglio Comunale e uno dei commissari è stato proprio l'attuale prefetto dell'Egrigento. Quindi come vediamo le cose tornano, tornano la memoria delle cose, tornano le persone che hanno conosciuto un pezzo di Sicilia, in questo caso a Racalmuto, forse nell'aspetto peggiore, nell'aspetto più difficile e complesso, e adesso tornano in una città, in una provincia che vuole essere capitale della cultura e mi auguro che questo sia anche una risposta a quella mafia che voleva farci diventare la capitale della mafia.